...al duce del sultano della Ussa, nella sala da vittoria di Palazzo Venezia, dove prestavano servizio di onore i moschettieri, presente il sottosegretario per l'Africa italiana generale Teruzzi, il fondatore dell'impero si è trattenuto affabilmente con il sultano che in premio della sua approvata fedeltà aveva chiesto soltanto il privilegio di poterlo avvicinare, e che interprete del sentimento di quelle genti d'Ancale, che con loro atteggiamento facilitarono la memorabile marcia della colonna Ruggero, conclusa via Sardò l'11 marzo del 1936, gli ha rinnovato il suo giuramento di fedeltà all'Italia fascista. L'ospite col seguito è quindi sceso in piazza Venezia, dove unitamente il generale Teruzzi ha assistito alla marziale cerimonia del distacco della guardia. Grazie a tutti!